Buongiorno e ben ritrovati con la rassegna di 8 Channel TV. Ovviamente i giornali cartacei e anche quelli online l'attenzione è puntata ovviamente principalmente sulle elezioni europee che hanno sancito almeno per quanto riguarda in Italia ma anche in Europa la vittoria del centro-destra. Ma adesso andiamo immediatamente ad aprire la prima pagina del Roma, europee vince Melone, ovviamente si parla di Exipol nel momento della stampa, Fratelli d'Italia intorno al 28%, forse Italia e Lega al 9% e tiene anche il PD. Resta forte l'assenzionismo, ovviamente il quotidiano il Roma punta l'attenzione su quello che è stato un po' il punto, il cardine di queste elezioni. Al sud non si è votato, i giovani non hanno votato, un dato che ovviamente è stato registrato anche in campagna. Infatti resta forte l'assenzionismo, le destre fanno il pieno ovunque, debacle di Macron in Francia, questo a livello europeo. Ci sono tutte le varie riflessioni, c'è la riflessione di Orazio Abbamonte, l'Europa una sovrastruttura che suscita poche simpatie. Mentre scrivo, spiega Abbamonte questo articolo, non so quale sarà il dato finale dell'affluenza alle urne, certo è che c'è molta preoccupazione per un forte tasso di disinteresse, soprattutto al mezzogiorno. Un po' potrebbe aiutare la concomitante competizione per il rinnovo di molti comuni che potrà portare. Infatti nei comuni campani dove c'è stato il rinnovo del Consiglio Comunale, quindi anche le elezioni amministrative, ovviamente il dato è stato più alto. Molto più basso invece il dato laddove non si è votato. Ed ancora restiamo sulla prima pagina del Roma, ci sono le fotonotizie che parlano di cronaca, provoca incidente, fugge, identificato, tre persone ferite al rione alto. Ed ancora un truffatore seriale di anziani in manette stoppa l'inganno dei cidi rom. Questa è la prima pagina del Roma che per quanto riguarda dei fatti del giorno, o meglio la cronaca nazionale, in primo piano uccide zio e ferisce il cugino dopo una lite. Questo è successo a Beroli in provincia di Frosinone. Una guardia giurata ha finito il turno di notte, praticamente è arrivato a casa, ha trovato, secondo questa una prima ricostruzione, ha trovato gli stalli di sosta sotto la sua abitazione occupati, peraltro dalle auto di suoi parenti. Ha esploso un colpo di pistola che ha raggiunto ed ucciso lo zio. E' ferito anche gravemente un cugino, un avvocato di Veroli. Ed ancora a Pisa, Delta Plano, precipita, morte le due persone che erano a bordo. Ancora la cronaca nazionale, donna sparita, sindaga per omicidio. Questo accade a Torino a denunciare la scomparsa della donna, è stato il fratello. Questa è la pagina di cronaca nazionale. E poi ovviamente il focus sulle europee, la vittoria di Giorgia. Fratelli d'Italia si attesta come primo partito. Forza Italia e Lega seguono. Tiene il Partito Democratico che è il secondo partito a queste europee a livello nazionale. Ovviamente, ripetiamo, si trattava al momento della stampa, si trattava di exit poll. Ma sono poi praticamente notizie confermate dai risultati elettorali. Ma il partito, allora, dei risultati elettorali. Vediamo un attimo. Ecco qua. Poi, focus sulle comunali, ovviamente, del quotidiano in Roma comunale. Oggi il verdetto, la sfida a sette. Questa mattina, infatti, parte e partita. Sono partite gli scrutini per quanto riguarda le elezioni amministrative. In campania, ovviamente, attenzione puntata anche sul comune di Avellino che dovrà, praticamente, eleggere il nuovo sindaco. Avellino 11 a candidarsi alla guida dei rispettivi comuni, eletti grazie al quorum del 40% da superare. Intanto vediamo che alcuni paesi, Candida, Taurasi, Casalbuono e Casalduni, hanno già i sindaci. Questo perché, praticamente, nella competizione elettorale non avevano avversari. Quindi, una volta raggiunto il quorum, sono stati automaticamente eletti. Ed ancora, andiamo ad Avellino. Roma punta su Avellino. Carcere, carenza di agenti di polizia in servizio. Gli addetti alle traduzioni. Gli addetti alle traduzioni, che normalmente prestano servizio per trasferire i detenuti dal carcere al tribunale o in altri luoghi destinati, adesso verranno utilizzati anche all'interno dei reparti, dei bracci, la protesta dei sindacati alle prese con l'emergenza. Questo. Ed ancora, andiamo a Casaldi Principe, a Caserta, con la notizia di cronaca. Dopo gli spari, l'indignazione. Le associazioni insorgono dopo l'episodio dei colpi contro la casa dei figli di Sandogan. L'episodio coinciso con il voto elettorale. Don Palmese, dell'associazione Polis, scenario inquietante che non ferma la nostra azione. Soffermiamoci un attimo su questa notizia. Da pochi mesi abbiamo celebrato il trentennale dell'uccisione di Don Giuseppe Diana e abbiamo celebrato, quando è scaturito dalla sua uccisione, la ribellione sociale, la presa di coscienza dei cittadini, azioni mirate alla legalità e al benessere comune, il termine casalise sdoganato da riferimenti puramente criminali. Uno scenario di certo inquietante che però non ferma l'azione di tanti, supportati dalla nostra fondazione. E questo dice Don Palmese, in merito anche a questo fatto di cronaca. Poi vediamo un approfondimento su Benevento, una lettera per ringraziare la direzione generale dell'azienda ospedaliera San Pio. Ecco come hanno salvato mio figlio. Ha scritto una lettera al direttore generale, il papà di questo bambino, di questo neonato, ha scritto una lettera al direttore generale del San Pio, Maria Morgande, per ringraziare i medici ed operatori dell'ospedale di Sant'Agata dei Goti, angeli che hanno salvato la vita di mio figlio. Ed ancora andiamo avanti. Andiamo su Napoli, cantiere restyling del lungomare, ancora un anno per ultimare i lavori, sono i lavori pubblici, il ritardo dovuto ad una richiesta della soprintendenza di affiancare un archeologo agli ingegneri. Questa è su Napoli, vomero, inferno traffico, appello a gratteri, viabilità in tilt, un'auto in sosta blocca il bus. Canoa si rovescia davanti a Villa Roseberi, muore un muore trentenne, con la vittima c'era un giovane che è stato soccorso e salvato da un natante, forse in patto con un motoscafo. Ovviamente si tratta di ipotesi. E ancora abbiamo visto in apertura via Pietro Castellino, sempre a Napoli, provoca un incidente, fugge rintracciato e denunciato il conducente dell'auto, una sedicenne ricoverata invece in prognosi riservata. Continua con la cronaca, andiamo ora sulla prima pagina, prima pagina di Repubblica, ovviamente dedicata alle elezioni, UE destra a Balanga, terremoti in Francia, dove vince Le Pen e Macron, va ad elezioni anticipate, in Germania l'AFD scavalca l'SPD, in Austria trionfo di FPO di Heider, ma l'alleanza Ursula del PPE, socialisti liberali, conserva la maggioranza in Parlamento. I popolari dovranno adesso decidere se aprire a Verdi o conservatori. e vediamo la prima pagina di Repubblica con di spalla, di spalla ecco qui, le proiezioni che poi alla fine sono rimaste, hanno confermato, sono state confermate queste proiezioni come primo partito in Italia a questa tornata elettorale per le europee con Fratelli d'Italia primo partito a seguire Partito Democratico. Crollo, c'è stato un crollo del Movimento 5 Stelle, poi Forza Italia, di poco sopra la Lega, alleanzi verde e sinistra, Stati Uniti d'Europa che non raggiunge praticamente il quorum, chiamano il quorum, poi ancora azione, pace, terra e dignità, libertà ed altre liste. Questo il quadro prospettato da Repubblica. L'europea FD resta primo, il PD cresce, crollo dei 5 Stelle e Forza Italia supera la Lega. Abbiamo visto in tal senso che, ne è notata Tajani, il numero uno di Forza Italia, ha dedicato questa vittoria a Silvio Berlusconi. Per la prima volta nella storia, scrive Repubblica nel catenaccio, alle urne meno della metà degli italiani, il partito di Meloni, migliore risultato delle politiche, nel centrodestra, il carroccio diventa terzo partito. Successo per ABS, Stati Uniti d'Europa, balla sul 4%, azione rischia. Ed ovviamente, queste erano ancora scritte, sono titoli ovviamente fatti in base alle proiezioni. Vediamo, abbiamo visto, chiedo scusa, volevo sottolineare questa notizia, Mattarella Palermo applaudito al seggio, sempre amata la figura del nostro Presidente della Repubblica. Ed ora, le proiezioni, proiettiamo, la Repubblica proietta il risultato delle europee sulla politica nazionale, e il governo avanti senza rimpassi, ora l'accelerazione sul premierato. Andiamo un po' di approfondire. Alla fine, lei sta, scrive Repubblica, e così il suo governo, Giorgia Meloni, detta Giorgia, cercava il plebiscito e ottiene un risultato robusto che man mano che si dipanava la campagna elettorale era diventato il suo obiettivo, portare il dato complessivo del suo partito e della coalizione sopra l'asticella delle politiche. Questo per dimostrare che il centrodestra non ha subito il logorio di un anno e mezzo di amministrazione. Un esito, considerato un via libera per l'esecutivo che osserve il capogruppo di FDI, Tommaso Foti, esce rafforzato da queste azioni. Andiamo ancora all'articolo di Emanuele Lauria, i fedelissimi di Meloni, siamo rafforzati, il sorpasso dei moderati FI sulla Lega può cambiare gli equilibri, ma Tajani fa sapere di non voler destabilizzare più debole l'autonomia. questo Repubblica, continuiamo con il quotidiano La Repubblica, FDI, Meloni festeggia, ci hanno visto arrivare, non ci hanno fermato, l'Italia torna bipolare. Questo è uno dei primi approfondimenti. La Presidente del Consiglio vince, la scommessa con il suo voto a Giorgia, il successo dell'ultradestra nel resto del continente, tuttavia complica per paradosso la corsa della destra conservatrice verso un posto al sole nel futuro Governo d'Europa. Questa è la notizia che dicevamo prima, anticipavamo prima, balanga nera sull'Unione, ma a Bruxelles regge la coalizione europeista. Popolari, socialisti e liberali restano maggioranze in aula ed escludono alleanze con Meloni. corso al bis per Von Dier, poi vediamo un attimo c'è l'articolo con una cartografia dei risultati delle elezioni europee in Europa nei vari paesi. Ecco, elezioni europee che hanno destabilizzato però va detto hanno destabilizzato la politica in Francia. Vediamo infatti Repubblica titolo su tre righe a Parigi il trionfo di Le Pen Macron doppiato e umiliato commoca le elezioni anticipate. Primi effetti delle elezioni Eliseo sotto shock RN al 32% il presidente si ferma al 14,9% e scioglie le camere si vota il 30 giugno gli elettori decideranno il futuro dice il presidente francese in Spagna vincono i popolari ma non staccano Sanchez e Vox raddoppia i seggi le varie ripercussioni interne dalle elezioni in retroscena Repubblica un approfondimento sempre su Parigi il leader punta a logorare i sovranisti con il potere non finirò come Obama vediamo adesso in Germania cosa è accaduto dopo l'esito delle elezioni europee terremoto a Berlino la FD supera Scholz vince la CDU ma l'ultra destra è comunque è comunque seconda questi sono i vari in Russia invece vediamo le reazioni in Russia sulle europee brindano i falchi del Cremlino ora la Nato più debole in Ucraina riportato ovviamente alla guerra tra Russia e l'Ucraina vediamo un po' in Austria invece gli ereti di Heider primi a Vienna l'estrema destra vede la cancelliera Orban vince ancora in Ungheria ma perde otto punti e ora l'opposizione lo sfida ancora gli approfondimenti ovviamente elezioni europee che hanno visto anche un buon risultato da parte per quanto riguarda il partito il partito democratico infatti vediamo che Repubblica il retroscena e il voto rilancia la segreteria Dem la proposta unitaria vince sulle polemiche ora nel partito scatta la fase 2 la segretaria potrebbe prendere scelte più nette confermando l'apertura giovani e territori il rebus del rapporto con i 5 stelle vedremo poi nei prossimi giorni vediamo ecco la Lega la decima è lontana rabbia di Salvini Bossi che strano qualcuno ha tradito l'affondo di Bossi il carroccio stimato all'8,5% retrocede a terza gamba del governo il vicepremier anche uno zero virgola in più è un successo vediamo un attimo l'articolo di Pucciarelli il mio abellerio piove e piove a dirotto per tutta la serata Matteo Salvini arriva alle 10 e mezzo e si rinchiude dentro l'ufficio sigarette sigarette sì ma dalla finestra anche se a un certo punto la tapparella si abbassa brutto segno riappare alle 2.33 la cronaca di Pucciarelli per Repubblica scendendo in sala stampa per dire che abbiamo tenuto andando contro tutto e tutti ci davano per finiti in Casa Lega sono tre i fattori che contavano tenendo incollato il gruppo dirigente sullo schermo la percentuale se si fosse sopra o sotto l'8,8% del 2022 ed ancora il posizionamento dentro il centro-destra se si fosse sopra o sotto Forza Italia e infine le preferenze di Roberto Vannacci per capire se il generale sospeso dall'esercito avesse fatto davvero l'exipol queste sono le queste sono le ripercussioni all'interno dei partiti ecco Forza Italia invece in opposto Forza Italia sorrisi e sorpasso Tajani vince la corsa a destra Silvio vive ancora le proiezioni danno il partito e poi così è stato confermato al 9,2% un anno fa la morte di Berlusconi sospiro di sollievo ci davano per scomparsi siamo vivi e vegeti queste le prime parole le prime parole di Tajani e andiamo adesso all'analisi del movimento 5 stelle scrive Repubblica crisi profonda per Conte è il dato più basso del 2013 apriamo una riflessione questo è Repubblica vediamo Repubblica Napoli ovviamente Repubblica Napoli si concentra sull'europea il sud disurta le urne e crollano i 5 stelle questo a Napoli appena il 36 83% va a votare nel 2019 il 40% ma alle amministrative la partecipazione aumenta il movimento impicchiata a Firenze scimita direttore di Capodimonte al ballottaggio ovviamente si votava si è votato anche per il rinnovo dei consigli comunali di città importante adesso coppia in kayak travolta da una barca muore una donna indaga la procura la notizia ovviamente ripresa anche da Repubblica Napoli vediamo il calcio in prima di Repubblica Napoli Napoli inizia l'era di Antonio Conte il nuovo tecnico arriva con il suo staff Chuck si parte sta iniziando l'era Conte il Napoli ha voltato pagina e lo ha fatto nel migliore dei modi scrive Pasquale Tina ancora un approfondimento sul Repubblica Napoli che punta sull'assenzionismo lui non accende il sud l'assenzionismo vola crollo dei 5 stelle a Napoli appena il 36 83% ha votato quindi questo è l'approfondimento della notizia della prima il prefetto a Castellammare controlli ancora politica controlli a Casal di Principe a Qualiano una donna di 24 anni è stata denunciata dai carabinieri per abbandono di seggio senza legittimo motivo si tratta di una scrutinatrice che praticamente ha lasciato il seggio e quindi dopo in serata è stata identificata e denunciata dai carabinieri per aver proprio abbandonato il posto che le era stato assegnato vediamo maggio a Matteotti a 100 anni dal delitto fascista la cerimonia ricorda Repubblica Napoli l'approfondimento ancora della tragedia coppia in kayak travolta da una barca muore una donna ovviamente sull'episodio è stata aperta un'inchiesta l'incidente nello specchio d'acqua dove affaccia Villa Roseberi si cerca l'imbarcazione che non si è fermata e non ha soccorso la vittima questo Repubblica Napoli inizia l'era Conte vediamo un attimo cronache di Napoli pistole in pugno per sfidare i licciardi è accaduto a Secondigliano assedio alla cosca della masseria Cardone i residenti spaventati hanno chiamato la polizia a fare i puntati sulle mosse dei feldi ovviamente cronache di Napoli punta sulla cronaca carrovane di centauri con revolver e mitra davanti alle palazzine del rione berlingieri controllate dai clan ed ancora la cronaca coltellate durante una rapina è stato preso il 29enne della sanità accusato di aver ferito anche al volto un incensurato che è ricoverato in prognosi riservata allora vediamo un attimo cronache di Napoli cronache di Caserta Movida esplode la rivolta dei residenti punta sulla Movida cronache di Caserta dopo le tensioni gli abitanti di Viella Solfanelli hanno pulito le strade il comitato vivibilità ha incontrato il vice sindaco qui non si dorme più hanno tuonato preso con 200 grammi di cocaina arrestato un 45enne il titolo di centro ed ancora vediamo un po' eccoci qua cronache di Caserta abbiamo visto le cronache allora andiamo sul quotidiano le cronache europee ovviamente due fotonotizie due fotonotizie in apertura le europee risultati fratelli di Italia primo partito sale il PD crollano i 5 stelle forse Italia supera la Lega ovviamente poi PD bene annunziata e topo FDI scendono più nel particolare per quanto riguarda i candidati nelle circoscrizioni nelle circoscrizioni di interesse FDI Gambino Nesci e Benedetto Tridico eletto nei 5 stelle crolla ancora l'affluenza vediamo come tutti i giornali campani hanno puntato sul dato dell'astensionismo dato che secondo i primi diciamo le prime analisi hanno riguardato maggiormente i giovani purtroppo va aggiunto la provincia di Salerno si ferma al 42 73% crollo netto rispetto al 2019 a trainare ovviamente sono stati i paesi dove si è votato le città dove si è votato vediamo un po' andiamo su Salerno quotidiano di Salerno e provincia la città europee FDI il primo partito vediamo anche la cronaca festa padronale a fuoco camion con le luminarie danni ingenti ad Angri ed ancora a Torchiara S.O.S. Croce Rossa aggrediti autista e un'infermiera purtroppo si continuano a registrare casi nella sanità di emergenza per quanto riguarda gli operatori boom di raggiri telefono rotto e dilaga la truffa ancora una questi sono degli sms che praticamente raggiungono i telefonini dei genitori proprio con la dicitura ciao papà ho il telefono rotto questo momentaneamente è il mio nuovo numero scrivimi su whatsapp appena puoi non appena si va a rispondere a questo messaggio scatta proprio la truffa si viene renderizzato su un su un sito truffa ecco Iervolino sfoglia la margherita il padron futuro salernitana tifosi in attesa Iervolino sfoglia la margherita il padron valuta la cessione dei club questa è ancora l'inchiesta dell'altro giorno a Salerno le case a luci rosse mercato monitorato ancora battipaia ancora cronaca minori con pistola giallo in via stella ecco adesso facciamo vediamo un attimo il sito in apertura gli elettori campani snobbano le urne ha votato solo il 44% in apertura di ottopagine punto it vediamo ancora tutti gli approfondimenti gli approfondimenti di politica ovviamente con i riflettori accesi sulle elezioni per rinnovo del consiglio comunale l'elezione del sindaco ad Avellino Gengara Otto Channel Schlein si è spesa in tutte le piazze il popolo ha capito le prime dichiarazioni ed ancora il prefetto di Napoli misita il seggio elettorale al Parco Verde la tragedia nelle acque a Napoli dove è morta purtroppo una ragazza che si trovava su un kayak che si è ribaltato l'acedonia ferisce un operatore sanitario e si bariga in casa denunciato questo è accaduto all'acedonia vediamo un po' entriamo ovviamente nei siti Avellino ecco il dato finale all'affluenza poi vediamo ancora le elezioni dai comuni grave emergenza idrica in Irpini a Montagudo in campo la protezione civile le prime parole di ieri durante la diretta elettorale su Otto Channel TV le prime parole del candidato sindaco Gengaro Otto Channel Schlein si è spesa in tutte le piazze il popolo ha capito l'intervista nel corso proprio della diretta organizzata da Otto Channel TV andiamo su Benevento a Benevento europea a Benevento prima Mastella ma dal Sannio nessun eletto ovviamente anche sull'affluenza la notizia mio figlio non respirava e rischiava di morire la lettera di ringraziamento di un papà nel Sannio sempre attuale è praticamente l'emergenza cinghiali il parco del Taburno dice sì al depopolamento stiamo vedendo che ogni ente ogni istituzione sta cercando di mettere in campo soluzioni contro proprio l'immasione degli ungulati vediamo un attimo lo sport Benevento l'angolo della nostalgia ma domani si riparte ovviamente per si parla di calcio dei giallorossi Benevento tutto pronto per riavviare i motori ecco qui questo era anche il sito concludiamo con Salerno in apertura ovviamente con le elezioni quorum battuto eletti già dieci sindaci nel salernitano ed ecco qui questa era questa era la nostra rassegna stampa noi ci fermiamo qui ovviamente tutti gli approfondimenti nel Tg delle 14 a seguire dopo il Tg ci sarà di nuovo la nostra maratona elettorale di 8 Channel TV quindi questo ok e la maratona dicevamo dopo il Tg ci sarà subito la nuova la maratona elettorale per vedere anche diciamo nei paesi per quanto riguarda le elezioni amministrative noi ci fermiamo qui una buona giornata a tutti voi a tutti Grazie a tutti.